Contraccettivi gratuiti anche in Abruzzo. Questa è la proposta che lanciano i giovani democratici. Dopo la scelta della Regione Lombardia di aprire gratuitamente ai ragazzi e alle ragazze con meno di 24 anni consulenze mediche e la distribuzione di contraccettivi nei consultori familiari pubblici e privati, anche la Regione Abruzzo cerca di intraprendere questa strada. È un segnale molto importante per combattere ed informare più giovani dei rischi e dei pericoli a cui si va incontro se non si utilizzano precauzioni adatte. Inoltre è uno strumento che serve per fare una seria campagna di sensibilizzazione su questo importante tema, argomento che è sempre stato a cuore dei giovani democratici. Infatti in passato sono state fatte campagne di sensibilizzazione nelle scuole. A illustrare questo importante progetto è Mario Schettino, segretario provinciale dell'Aquila dei Giovani Democratici. Prendiamo spunto da un ordine del giorno approvato qualche giorno fa dal Consiglio Regione della Lombardia, approvato all'unanimità, dove si viene impegnata la Giunta Regionale Lombarda nella distribuzione di contraccettivi a tutti i ragazzi under 24. Ma non è semplicemente una sensibilizzazione verso l'uso del contraccettivo, ma soprattutto una sensibilizzazione alle malattie sessualmente rasmissibili e a tutti i metodi contraccettivi. Di fatti l'ordine del giorno impegna la Giunta a fare un raccordo tra i consultori pubblici e privati per appunto divulgare al meglio e fare consulenza per tutti i ragazzi che vogliono interessarsi dell'argomento. È un tema che ci sta molto al cuore, anche come giovani democratici nazionali portiamo avanti ormai da anni la campagna contro le malattie sessualmente rasmissibili e contro l'HIV. E perché no? Abbiamo riflettuto. Perché non farlo anche in Regione Abruzzo? La Lombardia è la terza regione in Italia che si adopera su questo argomento dopo il Piemonte e l'Emilia Romagna, quindi abbiamo proposto al Consiglio regionale abruzzese di leggerare in tal senso.